Amici benvenuti nell'ultimo showcase della giornata, oggi andremo ad analizzare Nabana Nabana che è uno dei minion più sottovalutati in realtà, ma non dovrebbe essere così 14 stelle plus ed è l'ultimo minion della giornata che avevo portato a 14 stelle ma ne porterò gli ultimi due, ovviamente vi ci porto pure lo showcase 1.394.000 di potenza generale, 2.200.000 di vita, ovviamente Frieza Force, minion, event exclusive, è tutta altra roba mi piace questo Nabana che dopo essere entrato in battaglia, non è che ha inizio battaglia dopo essere entrato in battaglia, dopo essere entrato in battaglia, dopo essere entrato in battaglia, dopo essere entrato in damage infitto per quindicità mercant, quindi è buonissimo, riduce danno infitto del 30% per quindicità mercant e più 50% di chi per quindicità mercant e poi da più un 30% di chi per quindicità mercantile non cancellabile quindi questo era ed è da portare in battaglia assolutamente con gli altri minion faccio vedere assolutamente gli equip e ci becchiamo in battaglia dicevo eccoci qua con la prima battaglia, ovviamente di lavoro mi vai se va a prendere a pugni e poi ne facciamo i danni invece se ancora c'è chi ne fa i danni finalmente ragazzi, finalmente finalmente belli questi damage infitti oh raga ma avete visto i danni? cazzi questi minion cosa? ovviamente le censurano grazie vegetazione nazionale vegeto vegeta nazionale io mi ricordo il primo regito eh raga devo lanciarlo perché sennò non ce la facevamo l'abbia ma cosa è che metti un pop pop di ganne Ma perché segretamente io direi che è un blaster Più che il strike Prossimo match raga Allora raga secondo il ultimo match Poi domani avremo altri showcase Cioè raga mi è riuscito a farmi A ridurmi il chi Il capitano Dai mandami un'ultima cosa Ok Mi ridurmi raga l'endoran Sennò il chi è sbagliato 5 milioni Che sto scansendo la pancia Allora ci siamo C'è un app Ti analizzo Ok tu puoi Tu puoi essere una fredda Ma stai pure grittando Ma si può Povera Vados Niente non può fare nulla Vados Va bene Come dici tu Un app Sì comunque questo qui Più che strike Mi Vabbè Vabbè Lasciano stare raga Bene questo è l'ultimo minuto della giornata raga Noi ci vediamo a domani Ciao Grazie.